Una competizione, va bene? Un rapporto particolare che dura da quasi 20 anni è quello fra Alex Zanardi e il centro protesi INA, il Divigorso di Budrio. Con Marino Cancellari allora siamo andati a vedere come si sta vivendo questo momento drammatico nella struttura del bolognese. Questa è l'hand bike che è stata sviluppata nell'ambito del progetto Obiettivo 3 ed è caratterizzata dal fatto di avere tutta una serie di parti ultraleggere sviluppate in fibra di carbonio. Al progetto Obiettivo 3 partecipa anche Alex Zanardi, un programma tecnico sportivo che vuole portare nelle migliori condizioni possibili tre atleti alle Paralimpiadi di Tokyo. Alex è una persona eccezionale che le istruzioni, le informazioni che era in grado di portare nel seno al progetto sono uniche. Alex poi è un appassionato di meccanica, quindi è una persona che vuole capire e conoscere tutto ciò che avviene intorno a lui. Al centro protesi INA di Divigorso Alex Zanardi ci è venuto per la prima volta con il dottor Costa, il medico dei piloti, subito dopo il terribile incidente sul circuito di Lausitzring in Germania che gli costò l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Era il 2001, da allora la collaborazione umana e tecnica non si è mai fermata. Il legame è forte, fortissimo e non posso che davvero incrociare le dita e sperare in un esito positivo. Abbiamo bisogno dei suoi consigli, dei suoi suggerimenti, della sua motivazione per andare avanti. Ora l'aggiornamento sull'epidemia di coronavirus. Sono 22 i nuovi casi.